Buongiorno e ben ritrovati ad occhio ai giornali, è l'edizione di questo lunedì 14 ottobre che apriamo come sempre dedicandoci al Santo del Giorno, si onora oggi San Callisto che è stato il sedicesimo Vescovo di Roma, Papa della Chiesa Cattolica, presso a poco dal 217 al 222, siamo al III secolo d.C., oggi il sole sorgerà alle 7.19, il tramonto è previsto per le 18.27, ed ora andiamo a vedere che tempo farà in giornata. Come potete scorgere dalla grafica, sin dalla mattinata si altereranno sole e nuvole in un contesto destinato a restare stabile, anche per il resto della giornata scandita da temperature stabili rispetto ai valori che si sono già registrati nella giornata di ieri, che sono da ritenere gradevoli. Il resto del carlino scomparso dalla notte 19enne, l'auto è alla diga del furlo. L'alarme è stato lanciato ieri pomeriggio alle 18.30 dal padre disperato. Sul posto squadre di vigili del fuoco e sommozzatori, ricerche effettuate anche con i droni che sono andate avanti per tutta la notte. Testimoni, si legge all'interno dell'articolo, hanno riferito che la vettura che appunto era guidata dal giovane era ferma vicino alla casa del custode della diga già dalle 2.30 dell'altra notte. Sul posto appunto le squadre di soccorso che stanno scandagliando il letto del candigliano e la giovane non risponde alle chiamate da molto tempo. I genitori non sanno spiegarsi il motivo per cui la sua auto si trovi proprio in quel punto della vecchia flaminia che attraversa il furlo. Sempre il resto del Carlino sottolinea come non siano state ritrovate tracce che possano far pensare ad un gesto estremo, ma è ciò che sospettano gli inquirenti arrivati sul posto. Il Corriere Adriatico si dedica invece molto diffusamente nella pagina regionale ora, oggi, alla dengue con un approfondimento che viene articolato anche attraverso tabelle che possono riassumere bene il quadro in cui sono maturati numerosi casi registrati a Fano. La dengue è tra noi. Cos'è? Come si prende? E come non infettarsi? Questo è il titolo. Nelle Marche finora 180 i contagi tra accertati, 131 e probabili. La febbre spacca ossa, così viene vulgarmente etichettata la dengue, viene trasmessa dalla puntura di zanzara tigre. Zanzara tigre che viene individuata all'interno della tabella come vettore ci si infetta appunto attraverso la puntura. La zanzara tigre diventa a sua volta veicolo di contagio e punge e infetta un'altra persona. Quanto alla diffusione sono appunto 180 i casi di dengue finora emersi nelle Marche, 131 quelli confermati attraverso appunto gli esami, 41 quelli ritenuti probabili, 8 classificati come possibili, 50 hanno imposto il ricovero in ospedale, 177 di questi casi sono concentrati su Fano, 2 sono stati individuati a Pesaro, 1 a Tolentino. Ma disinfestazioni sono state eseguite anche a Durbino, Mondolfo, San Costanzo, Castelfidardo e Macerata. Attraverso domande e risposte in sequenza il Corriere Adriatico approfondisce i diversi aspetti sottolineando in primo luogo anche come nel 60% dei casi non compaiano sintomi e come esista anche un vaccino il cui utilizzo però è consigliato in situazioni particolari e in paesi in cui il fenomeno si concentra con particolare violenza. Quanto proprio a Fano si ricorda come il focolaio sia partito nel rione Vallato e il 98% dei contagi accertati sono avvenuti lì, due casi anche a Pesaro e uno a Tolentino. Perché Vallato? Il Corriere Adriatico ricorda la particolare conformazione urbanistica indicata anche dagli esperti come cornice ideale per la diffusione della denga. Si tratta di un ambiente tropicalizzato, così viene definito tra virgolette per gli alti livelli di umidità, situato nelle vicinanze dell'aeroporto e anche caratterizzato appunto da un'ampia presenza di verde. Come noto il comune in due diverse tornate ha effettuato disinfestazioni ma l'impatto mediatico è stato decisamente notevole, Fano non si è fatta una bella pubblicità, certamente con la denga, preoccupazione anche per il turismo, arrivano le disdette, fa notare appunto il Corriere Adriatico che questo aspetto in particolare, questa ricaduta negativa, la affronta nelle pagine dedicate a Fano, denga, arrivano le disdette dei turisti, ritiri segnalati da diversi hotel fanesi. Si legge nel titolo appunto del pezzo d'apertura delle pagine fanesi l'amarezza del presidente degli albergatori Cecchini. Non vorrei che qualcuno esagerasse, ha suscitato in particolare allarme il virologo Burione che nei giorni scorsi ha considerato non sicura Pesaro, sottolineando come nella necessità di recarsi nel capoluogo abbia fatto una toccata e fuga e abbia adottato tutta una serie di accorgimenti per evitare di essere appunto a fare da cassa, da risonanza anche a livello internazionale. Lo svolgimento del G7 ad Ancona riferisce il Corriere Adriatico, in quel contesto si è affrontato anche questo tema. Sempre sul Corriere Adriatico e dalle pagine fanesi, l'attività di Ultramar Cafè nella zona dell'ex zuccherificio, nel mirino del comitato che si è costituito nei mesi scorsi, aria pulita, nei giorni scorsi invece la notizia che Ultramar Cafè insiederà una nuova attività produttiva a Monteporzio, Ultramar Cafè si trasferisca tutta la tostatura e il sindaco reintroduca il divieto eliminato. E' la richiesta che viene avanzata appunto dal comitato, che reagisce così al potenziamento della produzione con un impianto a Monteporzio. Salutato con favore appunto il fatto che una parte dell'attività venga trasferita a Monteporzio, ma per il comitato a aria pulita che aveva sottolineato in passato tutte le ricadute negative della presenza di quello stabilimento, riguardo ad un piano industriale che prevede che a Fano rimanga operativo l'impianto per la tostatura di una tonnellata al giorno, ritiene appunto che debba essere reintrodotto da parte dell'amministrazione comunale quel divieto che in passato era stato rimosso e che ha sdoganato l'attività produttiva di Ultramar Cafè. Ancora dal Corriere Adriatico anche il pericolo segnalato dai conducenti del trasporto pubblico riguardo all'assembramento che si crea in Via Roma quando gli studenti all'uscita da scuola devono prendere i mezzi pubblici. Assembramento pericoloso, mettete in sicurezza la fermata. Questo l'appello che riflette anche i contenuti di una riunione che si è svolta per mettere a fuoco il tema. Rischi per gli studenti in Via Roma, i sindacati sollecitano Comune e AMI ad adottare provvedimenti perché appunto come attestato dalla foto si evitino questi assembramenti lungo una strada ad alto traffico, ad alto indice di traffico come Via Roma con il rischio conseguente di incidenti. Occupiamoci adesso dei temi che vengono trattati nelle pagine pesaresi dopo aver dato conto peraltro anche dell'unico tema trattato nelle pagine pesaresi del resto del Carlino riguardo a Fano, un ulteriore approfondimento sull'attività della Proloco che viene ad essere definita ancora una volta una sorta di impero, tutti alla corte di Tre Ponti, l'inchiesta del quotidiano bolognese che si sviluppa ormai da giorni sull'associazione che ha monopolizzato gli eventi, sostiene ancora il resto del Carlino, una piccola realtà cresciuta sempre di più con l'arrivo di Lucarelli in giunta, Lucarelli appunto che ha fatto parte dell'esecutivo SER in qualità di titolare delle deleghe del turismo e degli eventi. Lucarelli come è noto che non è più assessore al turismo dopo l'esito delle ultime elezioni che ha portato alla vittoria della centrodestra e all'insediamento della giunta, Serfilippi con quelle deleghe trasferite nelle mani dell'assessore Santorelli. Dicevamo dei temi trattati nelle pagine pesaresi e dalla Corriere Adriatico, il focus sui lavori all'ex intendenza. In piazza le impalcature restano ancora un anno, questo è l'aggiornamento sullo stato dei lavori, il cantiere aperto a marzo 2023 si voleva finire per la capitale della cultura, sono stati chiesti però 12 mesi di proroga per i punteggi fino al 30 ottobre 2025. Il complesso riqualificato, si legge nel sommarietto, dovrà diventare il quartier generale del De Magno. Sempre in tema di lavori pubblici sul Corriere Adriatico, anche un aggiornamento su quelli a Rocca Costanza, c'è il conto alla rovescia, la partenza annunciata per i primi di novembre, all'interno dell'articolo approfondito anche il tema dei finanziamenti che si sono resi necessari per quest'opera, oltre 5 milioni e 400 mila euro, mentre per quello che riguarda la destinazione si parla ancora del museo dedicato a Dario Fo e Franca Rame, anche se abbiamo ricordato nei giorni scorsi come il sindaco Biancani abbia sollevato qualche piccola perplessità riguardo a questa destinazione. Lavori urgenti servono anche al centro direzionale Benelli, dove le infiltrazioni d'acqua si sono trasformate in cascate a seguito delle precipitazioni abbondanti degli ultimi giorni. Risenare il centro Benelli costerà oltre 200 mila euro. Il Comune sta cercando le risorse per un intervento complesso. Nel frattempo il piazzale resterà ancora delimitato dalle transenne sempre in tema di opere pubbliche. Si asfalta la Monte Labbattese, traffico alternato a partire già dalla giornata di oggi per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale. Sul Corriere Adriatico ci si occupa anche della vicenda del pusher che ha aggredito i poliziotti, figura molto conosciuta le forze dell'ordine, che però è già tornata in libertà anche dopo le ultime intemperanze. Pusher subito libero, proprio il sindaco Biancani si sfoga. Non è normale, le leggi vanno modificate. I volontari della protezione civile intanto tre giorni a settimana solgeranno servizio di controllo al Miralfiore. Sempre per la cronaca e dal Corriere Adriatico. Anche il nuovo blitz ladrisco che è stato compiuto in una villetta del quartiere Loretto e il furto è avvenuto sabato sera con la famiglia che si trovava fuori dalla propria abitazione. Dalla Corriere Adriatico anche il nuovo fondo del centrodestra nei confronti dell'amministrazione di centrosinistra, quella attuale e soprattutto quella precedente perché ha quella Ricci che sono da ricondurre temporalmente i cosiddetti affidi facili. Il modello Pesaro non ha più alcuna credibilità. E' la tesi sostenuta dai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che provano a stanare anche il PD. Come è noto lo scenario è quello degli incarichi affidati alle cooperative Opera, Maestra e Stella Polare per tutta una serie di operazioni, una delle quali tra l'altro è stato accertato, non corrispondeva a quanto indicato nella determina. Sul Corriere Adriatico anche il dolore che ha colpito la comunità pesarese per la scomparsa dell'avvocato Alfredo Siepi, uomo di legge e di cultura. Così viene ricordato dal sindaco Biancani del suo vicevimini oggi alle 15 in Duomo i funerali dell'avvocato. Il resto del Carlino nelle sue pagine pesaresi si concentra invece sul bronzo con cui è stato ricordato per sempre Tonino Benelli, il bronzo di Tonino Benelli, monumento lontano dal museo, lo spazio occupato dall'avis. Cos'è accaduto? Che il bronzo che ricorda la figura di Benelli non può essere sistemato nei pressi del museo perché quello spazio è già occupato dall'avis, la grande fusione nel rondò dopo il ponte sul foglia, non abbiamo i soldi per invertire le posizioni, dicono il comune. Malandrino però di Fratelli d'Italia non ci sta, presenterà un'interrogazione. Anche la figlia di Tonino Benelli, Raffaella, sottolinea come fosse preferibile che il monumento fosse collocato lì dove sorgeva la fabbrica. Ancora dal resto del Carlino, pagine dedicate a Pesaro, le precisazioni fornite dal sindaco Biancani sul ruolo di Arceci in comune. Arceci braccio destro del precedente sindaco Ricci, una delle figure sentite dagli inquirenti riguardo proprio al caso degli affidi facili. Sindaco Biancani è il caso Arceci all'incarico di seguire il PNRR. La sua presenza in comune, spiega Biancani, sarebbe legata ad alcune mansioni che gli hanno state affidate dal precedente sindaco Ricci, che lo stesso Arceci deve ultimare. Ad Arceci, dal nuovo sindaco Biancani, non è stato affidato alcun incarico. Veniamo adesso all'entroterra, partendo dagli eventi. In primo piano la fiera del tartufo di Sant'Angelo Invado, che è tornata con due super ospiti nella giornata di ieri. Tommaso Mazzanti e Bruno Vanzan hanno ricevuto le onorificenze previste dalla rassegna, mentre per quello che riguarda la fiera del tartufo bianco pregiato di Pergola, a sua volta ha assegnato nella giornata di ieri riconoscimenti. Uno in particolare è andato al Corriere Adriatico, ricorda il quotidiano Anconetano, giornale definito come radicato identitario. Il sindaco Sabatucci e l'onorevole Baldelli, che funge anche da vice sindaco, hanno consegnato i bronzi dorati al direttore del quotidiano, Laurenzi. Sempre per quello che riguarda l'entroterra dal Corriere Adriatico. Anche il 550esimo anniversario dell'infeudazione di Mondolfo, che è stato celebrato dall'Archeoclub, che ha ricordato la grande fioritura delle arti avvenuta con Giovanni. Dalla rovere, dall'architettura alla scultura, si legge all'interno dell'archicolo, dalla pittura alla ceramica, dallo studio delle geometrie, alla condotta amministrativa, fino alla politica. Spostandoci invece a San Costanzo, i commenti, tutto sommato, favoreboli riguardo al provvedimento con cui è stato ristretto il corso, meno auto lungo il corso, ma motorini a rischio. Ora, multe per gli eccessi, invocano ancora cittadini che appunto apprezzano il fatto che con il restringimento sia diminuito il transito delle auto, però è ancora consistente quello degli scooter, i cui conducenti non sempre rispettano le regole, per questo viene invocato un atteggiamento meno permissivo da parte dell'amministrazione comunale. Riguardo invece al gossip, definiamolo così, il Corriere Adriatico saluta la nascita della figlia di Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, che così diventa zio. La piccola è stata chiamata Angelina Luce, la felicità della coppia, Luca Marini e la sua compagna, Marta Vincenzi. Quanto invece alla pagina dedicata ad Urbino, dal Corriere Adriatico, il confronto previsto per questo pomeriggio che si svilupperà intorno a fede e scienza, l'Arcivescovo Salvucci a confronto con due professori, il dialogo con il fisico vetrano e l'antropologo Bellei. Tornando invece alla dengue, nella pagina dedicata ad Urbino, il Corriere Adriatico ricorda come sia stata programmata dall'amministrazione comunale Urbinati e una disinfestazione per tre notti nella frazione di Pieve di Cagna, l'intervento dopo il soggiorno di un infetto da dengue proveniente da Fano. E adesso, come sempre, il lunedì, spazio allo sport e agli avvenimenti del weekend, cominciando dalla pallavolo e dalla Corriere Adriatico che celebra il primo successo nel campionato dia 2 che è tornata a riabbracciarla della Virtus che si impone nel derby su banca macerata per 3-1, Fano con un Roberti in più, questo è il titolo, il talento di casa suona la carica, macerata per 2-7 è ordinata e concreta, ma poi si perde, sfida non esaltante fra due team che in avvio di stagione devono fare i conti con tante novità. Partita appunto non eccelsa dal punto di vista tecnico con una Smart System Essence Hotels completamente fuori registro nel primo set, poi piano piano i Virtusini sono entrati in partita mentre dall'altra parte macerata in difficoltà, evidente nel ruolo di opposto, non riusciva a dare continuità alla propria prestazione, in particolare a Muro, fondamentale con cui aveva fatto la differenza nel primo set. E così maturata questa prima vittoria della formazione fanese in questo campionato di A2 di fronte ad un Palace Allende gremito. Venendo invece al calcio, partendo dalla Serie C, l'1-1 del Vis Pesaro in casa con il Pineto, il Pineto ci prova, la Vis reagisce e pareggia. Al Benelli un punto d'orgoglio per i Biancorossi ad aprire le danze. Sono gli ospiti con Bruzzaniti che non sbaglia su punizione, ma è Orellana a replicare e infilare una rete capolavoro. Quanto invece alle prestazioni individuali, il resto del Carlino si sofferma su quella di Palomba, una garanzia, Paganini sempre sul pezzo, Nicastro mette a segno un'ottima prestazione. Venendo invece alle valutazioni fatte a fine partita, il Corriere Adriatico da voce al vice allenatore Gennari che sostituiva lo squalificato Stellone, c'è mancato qualcosa, osserva Gennari, che analizza seneramente il pari con il Pineto. Potevamo anche ribaltarla, ma non c'è stata la convinzione giusta. Comunque, risultato giusto. Vispesaro che piange in queste ore, Nino Lavolpicella, Gloria De La Vis, è stato protagonista di giornate indimenticabili per tutta la tifoseria tra gli anni 50 e 60, ricorda ancora il Corriere Adriatico. Restiamo al calcio e al campionato di Serie D dove non finisce di sorprendere il Fossombrone che si impone largamente anche a Civitanova, resta a contatto con la vetta della classifica nel campionato di Serie D. Il Fossombrone fa male, sbancata Civitanova, questo è il titolo, colpaccio Metaorense in casa, rosso-blu, i padroni di casa restano ancora a secco di vittorie fra le muramiche, a segno Casolla, Torri e Satalino. Il gol di Casolla nel corso del primo tempo, nel finale, la squadra ospite ha messo al sicuro il risultato. Ovviamente soddisfatto, l'allenatore Fucili abbiamo dato più del 100%, osserva appunto il tecnico della formazione Metaorense. Mentre per quello che riguarda il campionato di eccellenza e la Corriera Adriatico ad aiutarci a mettere a fuoco i diversi temi, cominciando con la vittoria dell'Urbagna che batte anche il Monte Granaro per 1-0 a decidere Sarli. In apertura di ripresa è la quarta vittoria consecutiva, la formazione allenata da Lilli sale a meno due dalla vetta. Per il Monte Granaro arriva la prima sconfitta. Niente da fare invece per l'Urbino che si arrende al Chiesa Nuova, protagonista di questo avvio di stagione nel campionato di eccellenza. Chiesa Nuova che favola. Trisse, primato solitario. L'outsider di lusso non si ferma più. Batte anche l'Urbino e vola in testa. Urbino travolto già nel corso del primo tempo. Inutile, l'avete messo a segno da Montesi in apertura di ripresa. Si sta comportando bene anche il Montecchio Gallo che mette le ali e sottolinea sempre il Corriere Adriatico nel titolo. La squadra di Maggi batte di misura il Fabriano Cerreto e si posiziona al quinto posto in classifica partita ricca di gol e di colpi di scena. Quella andata in scena allo Spadoni. Mentre per quello che riguarda l'Alma Juventus Fano 1906 di Salvatore Guida accoglie il primo punto ma certamente l'esito è amaro per una partita condotta fino al novantesimo grazie al gol messo a segno in avvio di partita da Malci. Alma beffata al novantesimo finisce pari con l'atletico Mariner squadra che in questo avvio di stagione sta condividendo i problemi della formazione emigrata a Ferminiano sul fondo della classifica e Cialini a salvare gli ospiti nello scontro diretto salvezza. Questo nel weekend in cui i quotidiani non ne danno conto il Fano Calcio ha debutato al Mancini in terza categoria prima gara a Casalinga che è terminata con un 2-0 sul Babucce di fronte a un più che discreto pubblico. Ora il basket prima di salutarci con la VL Cartegna Prosciutto che mette a fuoco i temi relativi alla sconfitta subita a Rieti VL in mezzo al guado bisogna decidere panchina il club deve dare risposta a Baioni che ha guidato la squadra dopo le dimissioni di Sacripanti che rivestiva il doppio ruolo direttore sportivo e anche ovviamente allenatore nel frattempo è stato sondato a Tiglio Caia ancora sotto contratto con la Fortituto anche a Rieti sono pesati rimbalzi offensivi concessi. E siamo così al termine di questo appuntamento con occhio ai giornali nel ringraziarvi per averci seguito ricordiamo che questa sera ripartirà Primo Cittadino la trasmissione condotta da Simona Zonghetti che ospita i sindaci del territorio e si comincia con il sindaco di Fano Luca Serfilippi grazie di nuovo e buon proseguimento di giornata Grazie 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 Grazie